Gentili telespettatori, buona giornata. È incredibile, incredibile. Il video precedente vi parlava di slime e delle bugie sugli scioperi. Bugie sugli scioperi. Voi direte, è finita qua? No. Oggi, voi non ci crederete, rilancia sulla sanità. Come? Dice che la Meloni ha tagliato la sanità. Voi sapete che sono stati tirati fuori tutti i numeri possibili e immaginabili che dimostrano, senza ombra di dubbio e in maniera inequivocabile, che la Meloni, ve lo ripeto ancora, in questi due anni ha messo su 8 miliardi e mezzo in più sulla sanità. Attenzione, togliamo l'inflazione, scorporiamo l'inflazione. Sapete che l'inflazione fa perdere valore ai soldi. Togliendo tutta l'inflazione di questi due anni, a quei 8 miliardi e mezzo in più che ha messo la Meloni, scorporiamo l'inflazione sul totale, risulta che la Meloni ha messo solo 175 milioni in più sulla sanità. Quindi non solo la Meloni non ha tagliato, cioè non ha diminuito l'importo, l'ha aumentato oltre l'inflazione e quindi ha aumentato di fatto di 175 milioni i soldi sulla sanità. Pochi ha potuto fare questo la Meloni, questo aveva. Quindi non è che ha tagliato, non ha rimesso gli stessi soldi dell'anno prima, ma addirittura ha messo 175 milioni in più scorporando l'inflazione. Quindi è ormai assodato, ovvio, chiaro, chiarissimo dai dati che la Meloni non ha tagliato la sanità. La sanità quando è stata tagliata? Nei dieci anni che ha governato la sinistra, in due o tre governi c'è stato proprio il taglio della sanità, sono stati messi meno soldi dell'anno precedente. Quindi la sinistra è stata quella che veramente ha tagliato la sanità, veramente hanno tagliato la sanità. Però oggi, con il governo Meloni, i dati dimostrano, in maniera inequivocabile, che non ci sono stati tagliati alla sanità, anzi soldi in più. La cosa impressionante è che la Schlein è il capo politico del secondo partito italiano e le sue direttrici della politica sono basate su bugie. Gli scioperi, il governo vuole impedire gli scioperi in maniera illegale ed è un'enorme bugia. Il governo taglia la sanità. Enorme bugia. Io mi chiedo, capisco che quelli di sinistra vogliano difendere la propria area politica, ma non protestate. Avete un capo politico che racconta balle, grossissime, evidentissime, e continua a dirle indisturbata e nessuno di voi di sinistra dice nulla. Io capisco un confronto politico fatto sulle cose vere. Allora, io avrei capito, la Schlein dice, la Meloni ha messo troppo poco sulla sanità, troppo poco, doveva mettere di più, non ha tagliato, ha messo poco, 175 milioni, doveva mettere 4 miliardi, doveva mettere... Allora, fammi un dibattito su delle cose vere. Mi dici, la Meloni ha messo troppo poco, secondo noi doveva mettere di più e i soldi li poteva prendere lì. Questo potevi dire, ma non che ha tagliato. Oppure mi puoi prendere il discorso del salario minimo, insistere sul salario minimo, insistere su pochi soldi sulla sanità, ma non le bugie, perché fare un dibattito sulle bugie è grottesco, è ridicolo, non ha senso, ma quello che mi stupisce più di tutti, più che la Schlein che le racconta, sono quelli che le ascoltano e quelli che votano poi questi partiti, è questa la cosa incomprensibile, ma forse c'è una spiegazione. L'odio verso Meloni è così forte, così dentro la sinistra, che preferiscono non ascoltare le sciocchezze di Elena, perché l'obiettivo è odiare il più possibile la Meloni, quindi anche Elena che racconta le bugie in fondo va bene perché va contro la Meloni, va contro la Meloni con le bugie, fa niente, facciamo finta di credergli alla Schlein con il taglio della sanità e con il governo che va contro gli scioperi, oppure che la manovra, lei e Maurizio Landini raccontano che la manovra economica è contro gli italiani, contro gli italiani. La manovra economica approvata ieri dall'Europa con l'ode, approvata dai mercati finanziari in maniera completa, secondo lei e Landini in maniera assolutamente faziosa, la manovra è contro gli italiani, poi quando gli si chiede che vuol dire contro gli italiani, ci siamo capiti, non sto a ripeterlo, non sta a ripeterlo perché non sa cosa dire, perché è una frase che rappresenta una bugia. Bene, è pesante, è veramente 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 pesante, veramente pesante. La Schlein dice l'interesse del PD è avere alleati solidi, che poi parla dei 5 stelle, parla di qua, parla di là e poi mobilita il paese sulla sanità. Mobilita il paese sulla sanità. Abbiamo svolto una bella e lunga riunione per impostare il lavoro per i prossimi mesi sul progetto per il paese che il PD vuole portare avanti. Mobilitazione sulla sanità che è la più avvertita dagli italiani, sia da quelli che hanno votato il centro-sinistra, sia da quelli che hanno votato il centro-destra. Serve una piccola grande rivoluzione per rendere la sanità più vicina ai bisogni delle persone. Facciamo una battaglia per chiedere più risorse e sbloccare il tetto che impedisce di assumere più personale. Elena, Elena. Il tetto che impedisce di assumere più personali, lo sai perché c'è? Sai perché non si assumono medici e infermieri? Non perché la Meloni è cattiva, perché non ci sono i soldi. E se tu, Elena Edel, fossi oggi capo del governo, non potresti assumere medici e infermieri perché non ci sono i soldi. È chiaro? No, perché lei deve raccontare frottole per aizzare l'elettorato. Mamma mia come state da quelle parti, state proprio messi male. Arrivederci a tutti e grazie.